Il comune di Giulianova ha istituito il tavolo permanente per la tutela della città e la sicurezza pubblica. L'obiettivo è quello di rafforzare il controllo in tutto il territorio comunale, anche tramite le segnalazioni dei singoli, delle associazioni e dei comitati di quartiere. L'iniziativa è promossa dal consigliere comunale con delega la sicurezza Matteo Carpineta, d'intesa con il sindaco Ivan Costantini. In accordo con il sindaco abbiamo deciso di dare il coordinamento all'ex brigadiere della Guardia di Finanza ed ex consigliere comunale Roberto Sacconi, persona stimata e preparata. Noi lo ringraziamo per essersi messo subito a disposizione. Il tavolo servirà a raccogliere tutte le segnalazioni sul territorio e l'iniziativa mira sia a rafforzare il contributo che questa amministrazione può dare. Sacconi ha deciso di mettere a disposizione le conoscenze acquisite durante l'attività svolta nelle Forze dell'Ordine nel corso della sua esperienza amministrativa in qualità di consigliere comunale proprio a Giulianova. La scelta è data dal fatto che sono in pensione in quescenza da oltre un anno, come ex appartenente alla Guardia di Finanza ero sovrintendente e quindi mi sento in dovere di comunque di essere coinvolto in determinate situazioni dove il Comune di Giulianova ne ha bisogno perché le problematiche di sicurezza sono importanti. Mi hanno chiesto di dare una mano, ho accettato volentieri. Il nostro obiettivo è questo, innanzitutto convocare un tavolo immediatamente con le Forze dell'Ordine per conoscersi, per fare un programma, per porre delle basi ad un confronto. Subito dopo convocheremo tutte le associazioni di volontariato che sono sul territorio e anche le personalità che vivono la città dal punto di vista sia imprenditoriale, quindi turistico, porto e quant'altro. Porteremo le problematiche che sono sul territorio comunale. Ovviamente io in questo periodo ho visto e mi sono reso conto che ci sono delle criticità da affrontare. Vediamo di trovare una sintesi, ma che sia immediata nella risposta che ci chiedono i cittadini.